Buonasera a tutte e a tutti per essere qui per questo incontro con Ilide Caramignani che accoglierei con un applauso, grazie. Ilide è una ragazza che ha lavorato parecchio perché se avete dato un'occhiata al tavolo qua fuori ci sono alcuni dei volumi tradotti da Ilide Caramignani che ha tradotto tra gli altri Sepulveda, Bolagno, Garcia Marquez e volumi anche di un certo numero di pagine. Quindi un lavoro molto bello, molto difficile e questo incontro è intitolato Caffè con l'alter ego perché trattando radici il tema dell'identità anche e il lavoro del traduttore ha molto a che vedere con l'assumere per un certo periodo della propria vita l'identità di un altro per quanto sia possibile. Ci si deve calare nello stile di uno scrittore, nei suoi personaggi, cercare di restituire al meglio per quanto possibile una voce altrui. E quindi è per questo che ho pensato a Ilide perché oltre a tradurre Ilide fa anche tanti lavori sulla traduzione e quindi è una... tu ti occupi della diffusione delle armi del mestiere del traduttore, possiamo dire così. Sì, è una storia lunga, no? Cioè da tanti anni mi occupo di traduzione, è un mestiere dell'ombra di Cerenata Colorni nel suo bel libro pubblicato da Ripele. Io definisco i traduttori autori invisibili come anche il titolo del ciclo di incontri professionali che si tengono qua al salone del libro. Autori invisibili perché sono autori invisibili, traduttori letterari? Perché sono autori, noi siamo autori a tutti gli effetti come gli scrittori, abbiamo, lavoriamo col diritto d'autore. La traduzione è un'opera di ingegno, un'interpretazione come se fosse, non so, come quando un musicista interpreta un brano musicale, tant'è vero che questa è una delle metafore che è stata usata più spesso per la traduzione letteraria. Un brano suonato normalmente uno spartito per pianoforte, ecco che il traduttore si trova a suonarlo con un altro strumento, con un violino, c'è questo passaggio di voce. Quindi autori, però invisibili. Perché invisibili? Perché la traduzione è un mestiere oblativo, no? Cioè noi facciamo da ponte, vogliamo passare il testo, tutto il testo è solo il testo, non vogliamo mettere niente di nostro, non dobbiamo mettere niente di nostro, anche se, ovviamente questa è un'attenzione a l'assoluto, no? Poi qualche cosa passa sempre, è appunto un'interpretazione. Però non vogliamo avere visibilità nel testo, non vogliamo riscriverlo come ci piacerebbe che fosse, non vogliamo censurarlo, non vogliamo infiocchettarlo, non vogliamo tradirlo né verso l'alto né verso il basso. Temo che questa invisibilità, che è proprio connaturata al mestiere, io dico sempre, a me piace stare nello spazio bianco fra le righe. Se voi prendete quei libri laggiù, io spero che non ci sia nulla di mio, però io ci sono, ci sono in ogni spazio bianco fra una riga scritta e l'altra. In quel modo lì mi piace esserci. Però al tempo stesso temo che questa invisibilità a volte non ci aiuti a lavorare bene, nel senso che il mondo culturale in generale, a volte anche i lettori, non so se io a volte faccio un gioco un po' crudele, cioè anche forse un po' masochistico, no? Cioè quando dico ma qual è il libro che più le piace? Questo. E chi è il traduttore? E pochissimi lettori, proprio solo i lettori forti, davvero forti, no? Fanno caso a questo nome. Eppure è il musicista che ha suonato quel pezzo. Solo i lettori veramente forti vanno a comprare, non so, orgogli e pregiudizio e dicono che traduzioni ha lei in libreria? Perché fra queste traduzioni è un po' come uno dice non so, voglio sentire quell'aria della bohème, ma la voglio sentire cantata da Cecilia Bartoli, lui da Pavarotti invece che da... ecco, faccio un esempio un po' scemo, ma insomma il funzionamento è questo. Quest'invisibilità, questa mancanza di... così, mi verrebbe da dire quasi di presenza in un certo senso è quella che a volte ci mette in condizioni di lavorare di fretta perché non si viene capita la complessità del lavoro, anche di non avere non solo grandi onori, ma nemmeno grandi remunerazioni, diciamo. Anche se è un lavoro bellissimo, è un lavoro straordinario, è un lavoro... io credo che voi siate tutti lettori forti, se siete qua siete lettori forti. è il circolo dei lettori, lo dice il nome, fra l'altro prima lui mi diceva, lui diceva che io ho tradotto Sepulveda, io ricordo qua una serata con Sepulveda il 9 novembre del 2010, in cui abbiamo fatto... lui ha fatto questa bellissima, bellissima chiacchierata e... come posso dire... sarebbe bello che ci fosse un lettore, mi segue su questa cosa, un lettore quando prende in mano un romanzo, quando prende in mano dei racconti, partecipa a quei racconti, si tuffa in quei racconti, vive in quei racconti. Ecco, pensate come partecipa a un testo, come vive in un testo un traduttore che su quel libro, invece di passarci, non so quanto tempo ci può volere a leggere un libro di cento pagine, voi ci mettete magari una serata, due giornate, non so, e io ci passo un mese e mezzo, un mese e mezzo dalla mattina alla sera, così come altri la mattina alle 9 vanno in ufficio e tornano a casa la sera alle 6, io mi chiudo nel mio studio e ascolto questa voce, che è una voce, diciamo, di una persona che non c'è, ma c'è, la voce dello scrittore che mi racconta e io devo trasformarla in una voce italiana. E se metto insieme, io tradotto di Sepulve da 26 libri, credo che siano per me probabilmente più di 10 anni di vita, sono stata più di 10 anni della mia vita dalla mattina alla sera ad ascoltare quella voce lì e a cercare di capire una cosa che non dovrei, e questa è una cosa che non dovrei dire perché teoricamente, i teorici della traduzione mi tirerebbero una bacchettata, ma a cercare di capire come Lucio avrebbe scritto quella cosa lì se per assurdo fosse stato italiano. Perché, diciamo, c'è proprio uno sforzo di identificazione totale, siamo qui a parlare di identità e il traduttore mette da parte la sua identità, mette da parte i suoi gusti, mette da parte tutto tranne la sua capacità d'ascolto, la sua sensibilità, questo, come dire, intonarsi, entrare in sintonia per dare voce all'altro. C'è un mito molto bello, ne parlavamo con Giuseppe, che è il mito del Sosia, che c'è in Plauto, c'è in vari autori classici, che dice che Giove, per giacere con una bella donna di cui si è invaghito, prende le forme del marito e quindi diventa il suo Sosia. E così il traduttore, che, come dire, si innamora di un testo, in qualche maniera per farlo suo, è costretto a prendere le vesti dello scrittore, a diventare il Sosia dello scrittore, il doppio dello scrittore, c'è proprio come un gioco di specchi in questo atteggiamento, in questa disposizione d'animo, che è, ripeto, assolutamente oblativa. Cioè, chi vuole visibilità, chi vuole prendere la parola, non può fare il traduttore. Il traduttore prende le parole di un altro per restituirle uguali il più possibile. E non è facile perché non deve restituire solo quella che Sossur chiamava la langue, cioè non si restituisce solo lo spagnolo, ma si restituisce il modo particolarissimo che quell'autore, che sia Sepulveda, che sia Bolagno, che sia García Márquez, che sia Cortázar, il modo particolarissimo che lui ha trovato fra tutte le risorse espressive della sua lingua per crearsi una voce originale, uno stile, chiamatelo come volete. Quindi non conta solo il cosa detto in letteratura, conta moltissimo, di più forse, il come questo l'ha detto. E quindi si sta lì, ecco, io appunto, diciamo una decina d'anni abbondante su Sepulveda, 16 romanzi di Bolagno, se non 10 anni quasi, perché i romanzi di Bolagno sono piuttosto impegnativi. Che posso dirvi? Siete dei lettori, lo sapete come si sta dentro un libro che vi piace? Si sta bene. Io ci sto ancora di più e mi sento da un lato il privilegio di scegliere le parole, le parole italiane. Anche a volte, sinceramente, l'onere, no? La responsabilità. Quello che io non vedo nel testo originale non lo passo in traduzione. Se non lo passo in traduzione va perso per voi. Quindi io devo cercare di restituire tutto. Questo, e poi chiudo, questo nella consapevolezza che si dice sempre in traduzione c'è un residuo traduttivo, la traduzione tradisce, c'è sempre qualcosa che non passa. E' vero, ma questi sono i limiti del linguaggio, non sono i limiti della traduzione. Quando vado a fare lezione nelle scuole, insomma, a fare lezione, quando vado a fare incontri sulla traduzione nelle scuole, dico sempre, anche all'interno della stessa lingua, ragazzi, prendete un messaggino, i messaggini Whatsapp di qualcuno che vi sta a cuore e leggeteli, leggete il messaggio del giorno prima, lo leggete sempre nello stesso modo. A volte ci vedete magari grande affetto, a volte vi vengono dei dubbi, sarà vero, sarà falso, a volte lo sentite un po' più freddino. In realtà la comunicazione è imperfetta, figuriamoci quando è impossibile essere l'altro, è impossibile capire fino in fondo l'altro, perché è altro, non siamo noi, voglio dire da pirandello in giù, è una cosa che la sappiamo bene, no? Figuriamoci quando mettiamo insieme due lingue diverse, quindi due modi di descrivere la realtà, che non sono congruenti, non nemmeno i colori funzionano, se io penso a un colore in una lingua, penso a blu in inglese, in italiano può essere blu, può essere azzurro, può essere celeste, è il traduttore che si deve spaccare la testa e dire cosa sarà in quel testo, cosa avrà voluto dire, se io fossi lui, cosa metterei qua? ora poi scusate, io mi appassiono, comincio a parlare, non smetto più, ma fai bene? No, per esempio, adios, adios in spagnolo, vuol dire addio, ma non è sempre un saluto definitivo, adios è anche semplicemente tanti saluti, insomma, mettete che c'è una, lui in un romanzo, ultima pagina, lui se ne va, e dice a lei, adios, se io metto addio, lo saluta per sempre, se metto ciao, arrivederci, tanti saluti, perdo però comunque quella possibilità dell'addio, lo spagnolo è ambiguo, io devo scegliere, e devo scegliere io, perché la mia lingua non me lo fa dire quella cosa lì, no? Devo, devo trovare un modo, se c'è, tecnicamente si chiama anisomorfismo linguistico, le lingue, ogni lingua dice le cose a modo suo, a volte non le dice, ci sono i silenzi della lingua, quelli che Ortega e Gasset chiamava i silenzi della lingua, se voi pensate all'inglese, in inglese, secondo che passato usate, voi sapete se quella cosa si riflette o no sul presente, I've lost my key, I lost my key, ho perso la chiave, ma se lo dico, se io dico ho perso la chiave, io non lo so, se quel problema lì ce l'ho ancora della chiave, devo andare a chiamare il fabbro, o i vigili del fuoco, oppure se è un problema risolto e non mi tocca più, allora devo fare una lunga perifrasi e non posso più, forse non posso neanche fare la perifrasi, cosa faccio, metto la nota, oppure conto sul fatto che, come dire, un testo di letteratura è sempre capace di parlare agli altri e queste sono piccole cose che comunque, come dire, nel flusso, nel messaggio non sono così determinanti, no? E vi dico, anzi, mi sembra fosse Elliot che diceva The Hole of Something, ora lo dico sicuramente con degli errori, cannot be said, cioè non si può mai dire tutto di qualcosa, il tutto di qualcosa non può essere detto, pensate a un saggio critico, una recensione, può dire tutto di un libro, no? Il bello è proprio la variazione, il bello è proprio che ognuno dà una interpretazione diversa, e ora mi taccio, scusate del... Non devi chiedere scusa, ti volevo chiedere, visto che, allora, è molto cambiato il mondo dell'editoria, un tempo, credo, che, cioè io ho fatto forse ancora in tempo a vedere case editrici in cui c'erano dei traduttori all'interno della case editrice, adesso trovare dei traduttori all'interno della case editrice è esperienza ormai non ci sono più, no? È tutto stato appaltato, fuori, partita IVA, eccetera, no? In un mestiere così delicato e complesso, questo che cosa significa? Allora, diciamo, quello che più mi duele, direi, non è non è tanto che il traduttore sia stato espulso dalla case editrice perché in qualche modo era comunque un'eccezione, no? Cioè, non un'eccezione, era frequente, ma era comunque un altro lavoro svolto da qualcuno che aveva il suo lavoro in case editrice. Quello che mi duele è che sono stati espulsi dalla case editrice i revisori. Il revisore è quella figura che in case editrice quando io consegno la traduzione, quando il traduttore consegna, si riguarda, si rivede la traduzione in modo che c'è un controllo, diciamolo, no? Perché in fondo non è solo responsabilità del traduttore, cioè l'editore pubblica uno scrittore un romanzo e l'editore che lo pubblica e lo stampa vorrà ben vedere se quello che pubblica è adeguato. E qua si assiste sempre più a come dire a persone che lo fanno in modo molto occasionale con non tanta esperienza. Ci sono anche revisori bravissime. A me capita di scegliere di accettare un libro, una traduzione invece di un'altra perché perché so che posso contare su una redazione che funziona, che non sono sola, ecco. So che sono sostenuta perché tutti sbagliamo. Diciamo che il revisore è un po' una sorta di angelo custode quando come capita a tutti sei stanco o hai un momento di distrazione scivoli il revisore ti sostiene per il bene del libro perché per il bene non solo dello scrittore pensate che una cattiva traduzione è qualcosa che non fa dialogare adeguatamente le culture la traduzione è uno dei dei modi in cui le culture dialogano una delle forme più alte di dialogo fra paesi di lingua diversa se io ho una cattiva traduzione quel messaggio arriverà sminuito non solo quello scrittore sarà danneggiato da una cattiva traduzione perché il suo lavoro sarà recepito male quanti scrittori quanti libri pensate quanto cambia a volte l'accoglienza che i lettori riservano a uno scrittore a seconda della traduzione mi viene in mente Adelphi perché è una casa editrice famosa per le ritraduzioni per prendere degli autori che sono passati inosservati pubblicati da casa editrice che avevano meno cura della traduzione che portati in Adelphi ritradotti con cura hanno avuto un'accoglienza straordinaria anche autori che hanno quasi fatto dei salti di genere cioè sono usciti dal genere e sono diventati scrittori con la S maiuscola se posso esprimermi così stavo alludendo proprio a Simnon quindi diciamo la cura del lavoro è in questo senso è fondamentale poi c'è un danno anche per il lettore perché a me verrebbe da dire lettori forti quando vi accorgete di avere una traduzione piatta una traduzione piena di calchi una traduzione che non funziona bene sarebbe da restituire al mittente sarebbe da dire caro editore io ho pagato per leggere questo libro mi hai promesso questo scrittore mi hai promesso questo romanzo invece è un po' come se come dire facendo un esempio un po' pedestre io compro succo d'arancia e mi dai una polverina una cosa sintetica arancione e quindi e poi c'è un danno anche ulteriore che è il danno all'italiano cioè una cattiva traduzione soprattutto visto la massa di traduzioni dall'inglese che si riversano noi siamo un paese che traduce forse non so se per la metà dei libri tradotti ma nella sezione dei libri per ragazzi il 60% dei libri che i nostri bambini leggono sono tradotti dall'inglese quindi e poi c'è tutta tutta la parte cinema televisione doppiaggese come si chiama a volte queste traduzioni così frettolose anche tutto l'intrattenimento i romanzi rosa la fantascienza tradurre malamente questi libri dall'inglese vuol dire portare in italiano tutta una serie di forme che da lettori ingenui perché spesso il bambino è un lettore con un italiano in formazione lo prende lo assorbe e comincia a un italiano manchevole un italiano come dire adulterato da queste cattive traduzioni dall'inglese quindi non è nemmeno vero che dobbiamo tradurre con cura solo i grandi romanzi perché se vogliamo come dire difendere l'italiano dobbiamo tradurre con cura tutto anni fa con Marisa con Marisa Caramel che è traduttrice lei dell'inglese tradotto tra gli altri Delillo così lei mi diceva io ho iniziato traducendo per rivistacce quando ero ragazzina così no e poi sono arrivata fino a Delillo è stato un lungo percorso dice però dopo decenni decenni di traduzioni io ho sempre bisogno di qualcuno che riveda il mio testo non c'è niente da fare perché comunque qualche cosina mi sfugge sempre e mi ricordo non dirò mai l'editore però mi è capitato in tempi recenti di leggere un libro tradotto da un signor editore in cui in un porto c'era il varo di un mezzo corazzato anziché di una corazzata e lì rimani no un po' tu dici come io vi ho pagato il prezzo del biglietto devo dire che questo accade un po' su tutto no da traduttrice da traduttrice di testi latinoamericani e spagnoli soprattutto latinoamericani ma potrei dire lo stesso perché me l'hanno raccontato colleghi che lavorano sull'inglese accade di trovare queste cose anche nel romanzo cioè una del si lavora spesso il traduttore è il primo che scopre distrazioni imperfezioni anche piccole assurdità commesse dallo scrittore perché non c'è più l'editing perché non c'è più nessuno ora si parla dell'editing come di qualcosa a volte che sembra quasi sfumare nel male assoluto qualcuno che vuol trasformare il tuo romanzo in una qualche cosa di commerciale ora in realtà c'erano come dire i circoli letterari tutti facevano leggere anche nell'ottocento e anche prima facevano leggere agli amici i propri romanzi sentivano in qualche modo le impressioni i pareri quindi direi che siamo andati verso un lavoro più industriale e meno artigianale le sviste della traduzione sono sviste tra altre sviste devo dire perché capita di vedere a volte anche come dire c'ho un aneddotario che potrei mi ricordo uno scrittore latinoamericano piuttosto importante che non è Sepulveda è un altro che aveva un romanzo in cui un bastimento partiva dal Libano di emigranti faceva Gibilterra faceva Panama quindi dopo aver attraversato l'Atlantico passava nel Pacifico e poi attraccava Buenos Aires e uno diceva allora si è fatto lo stretto di Magellano una specie di crociera non contenti lì gli emigranti prendevano i muli e attraversavano le Ande morendo come le mosche per andare a Santiago del Cile che era c'erano passati davanti poi c'era un bambino che faceva delle grandi riflessioni sulla morte un bambino scusato ho anticipato c'era un personaggio che faceva delle grandi riflessioni sulla morte vedeva morire un cavallo e rifletteva sulla caducità della vita poi facevi i conti interni al romanzo aveva tre anni era un bambino quindi diceva bene precoce ma forse un po' presto ecco c'era Pasqua una Pasqua ortodossa di mercoledì a febbraio io ricordo che ho telefonato a dei sacerdoti ortodossi nel nord dicendo per favore ditemi è possibile che ci sia una Pasqua ortodossa di mercoledì a febbraio e loro mi hanno detto no non c'è modo c'era tutto a quel punto era diventato parlato con l'editore che era un editore molto scrupoloso e gli ho detto io ho 70 punti di domande in questo romanzo di 200 pagine che faccio e gli ho detto non ti preoccupare la traduttrice francese ha lavorato a stretto contatto con lo scrittore il libro è in bozze sta uscendo sicuramente ha risolto i problemi chiamo l'editrice francese chiamo l'editrice francese mi arrivano le bozze francesi in realtà era tutto uguale allora il ritelefono era non so 7-8 d'agosto quindi questo povero editore era a Santa Margherita in vacanza io lo tormentavo e gli dico ma qua i problemi sono aperti e lui mi dice facciamo così si chiama lo scrittore e io ho detto no mai io mando l'elenco ma io non lo chiamo io non volevo era un personaggio abbastanza noto per avere un cattivo carattere aveva litigato con tante persone per cui era un po' timorosa anche perché lo status del traduttore cioè il traduttore voi lo sapete è il traditore se il traduttore è il traditore capite con che coraggio andate a dire a uno scrittore c'è qualcosa che non va l'editore ha chiamato lo scrittore poi mi ha richiamato e mi ha detto l'ho avvisato sta aspettando la tua telefonata e allora a quel punto piuttosto che era già era già avviato il percorso ho telefonato e questo scrittore mi dice dico guardi ho dei punti di domanda ho notato un disorientamento spazio temporale è una cosa voluta permettere di inserire il lettore in questa prospettiva quasi magica oppure ci sono delle piccole così cose da mettere a posto e lui mi ha risposto com'è lì da lei il tempo io dico beh siamo 7-8 d'agosto fa un caldo pazzesco e lui mi dice io sono a Santiago e fa un ganfreddo vede che il tempo è un'opinione a quel punto ho detto guardi lasciamo stare mi scusi se l'ho disturbata in vano lasciamo tutto com'è e lui mi ha detto no lei deve sistemare tutto e poi mi ha chiesto di tradurre anche il libro dopo e io ho detto di no e la sono sentita ecco questo per dire il lavoro sul testo è un lavoro che a volte sempre più il traduttore si trova a fare cioè un traduttore entra proprio nella carne del testo questo è anche uno dei motivi per cui sarebbe bene che ci fosse più visibilità perché il lettore sa che c'è stato un passaggio non è come la copertina io posso scegliere un libro con una brutta copertina ma so che dentro c'è una cosa di cui come dire lo scrittore non è responsabile di questa immagine che a me non piace se io leggo una brutta traduzione io penso che è lo scrittore che scrive male quindi diciamo sarebbe bene che ci fosse una maggiore consapevolezza del passaggio una una diversa però ecco mi spiasce un po' essere qua a parlare di difetti io vorrei raccontarvi quanto è bello il lavoro vorrei raccontarvi le soddisfazioni cioè perché è un lavoro bellissimo questo considerate che io sono pagata per leggere io mi leggo questi libri dove entro e ci passo le mie giornate con grande soddisfazione a volte come dire sono case accoglienti dove si sta bene solari a volte sono anche invece posti come dire che ti inquietano o a volte sono posti che ti non ti fanno star bene ma al tempo stesso come dire ti tengono con sé io penso in particolare per esempio a uno dei libri più belli che io ho letto in vita mia non tradotto proprio letto e cioè 2666 di Roberto Bolagno nella parte dei delitti che è uno dei cinque romanzi che compongono questo capolavoro si raccontano circa 60 femminicidi e Bolagno si è fatto mandare da un giornalista messicano il materiale autentico cioè si è fatto mandare le relazioni dei medici legali che venivano usate nei processi nelle indagini e così via e io ricordo che dovevo aprire la finestra ogni tanto era luglio e dovevo aprire la finestra e respirare perché mi si accorciava il respiro a tradurre quel libro lì e al tempo stesso era come dire una prova di letteratura talmente magnifica che quando io ho finito di tradurre 2666 mi sono quasi sentita male dal dispiacere che quel libro non lo potevo tradurre più era una cosa che era stato come vivere un'avventura meravigliosa era stato come essere un pochino Bolagno nella mia dimensione minuscola diciamo io ero il nano che era salita la nana che era salita sulle spalle di Bolagno come si diceva come diceva Abelardo chi è che lo diceva e lassù c'era un'aria magnifica ecco lo provate anche voi come lettori ma poterlo riscrivere è qualcosa di straordinario poi a volte anche delle soddisfazioni per esempio una volta con Sepulveda dovevo tradurre quella che in spagnolo si chiama palabra malzonante cioè una vulgarismo una parolaccia insomma sono diverse anche le bestemmie da una lingua all'altra io non potevo censurarlo e quindi ho pensato ho pensato ho pensato non potevo tradurla alla lettera ho pensato ma io ometto porca miseria perché mi sembrava che un autore come Sepulveda potesse 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 piacergli potesse essere potesse potesse stargli in bocca questa espressione stargli nella penna e in effetti è successo che anni dopo un personaggio italiano in un libro di Sepulveda ha detto porca miseria non so se lui non credo che lui leggesse le mie traduzioni quindi non credo che l'abbia preso da me evidentemente veniva spesso in Italia l'ha sentito dire l'ha piaciuta e l'ha usato e lì per me c'è stato è stato non come vincere un premio di traduzione mille volte di più cioè questo aver raggiunto questa identità con lui un'altra cosa di questo tipo che mi è successa è stata traducendo il romanzetto Lumpen di Bologno perché avevo scritto una recensione per una rivista per Goffredo Fofi e l'avevo intitolata Catturare draghi e travestirli da lepri draghi e lepri una cosa così che è un'espressione di Bologno per descrivere un po' il suo tipo di scrittura cioè lui dice bisogna raccontare cose drammatiche ma bisogna anche avere la leggerezza delle lepri la velocità delle lepri aveva un senso dell'umorismo spiccato Bologno quando sono andata a vedere la mostra a Barcellona di Bologno ho scoperto o forse l'ho visto dopo sul catalogo non mi ricordo ora non vorrei confondere le date un titolo provvisorio del romanzetto Lumpen era Draghi e lepri e anche lì ho detto allora allora davvero c'è stato un po' di consostanzazione di transostanzazione o come si dice cioè c'è è questo un po' annullarsi e dar voce a un altro che così è anche come diceva Cortá sarei molto noioso essere sempre se stessi no? ma non so voi si legge per questo per essere sempre se stessi ti alzi la mattina ancora una volta sei te stesso e sei fai sempre le stesse ecco come leggere tradurre ancora di più la letteratura ti dà questa possibilità di essere qualcun altro e quando sei Bolagno quando sei Cortázar quando sei Borges insomma è una grande soddisfazione bellissimo ascoltami hai prego sì certo ci vuole hai un paio di volte hai accennato al fatto che non non puoi censurarti no? e oggi come sai viviamo in un'epoca in cui la sensibilità è cambiata come si dice e quindi per un traduttore questo che cosa significa? il traduttore per sua natura vive sempre come dire proiettato su un confine sei in equilibrio su un confine perché in porti cose da fuori quindi hai contatti con sensibilità diverse a volte più avanzate anche rispetto alla tua e su questo abbiamo molto riflettuto anche al salone del libro agli incontri per esempio sul linguaggio inclusivo o credo forse meglio ancora non esclusivo perché al di là di quello che ciascuno di noi pensa e anch'io credo che ci voglia attenzione alle sensibilità di tutti un traduttore ascolta un traduttore come dire in questo senso è pronto a rinunciare alla sua alla sua posizione per per ascoltare gli altri per entrare in sintonia con gli altri al di là comunque di quella che è la posizione di ciascuno di noi sullo schwa o l'asterisco o tutti questi modi per esprimere sensibilità diverse il traduttore si vede arrivare un testo dove c'è uno schwa non uno schwa diciamo nel mio caso io vi faccio esempi dallo spagnolo in spagnolo peninsulare in Spagna si dice per esempio sempre più spesso si trova buenos dia a todes quindi non to dos con la o che è maschile non to das con la h che è femminile ma todes che è omnicomprensivo diciamo così in America Latina e in Argentina invece vedo usato molto di più la x per esempio una scrittrice che io amo molto Maria Teresa Andruetto di origine piemontese quindi siamo in tema ha scritto un libro bellissimo leggetelo che si chiama Stefano che è la storia di suo padre che parte dal Piemonte e va e va in Argentina ed è scrittrice magnifica per ragazzi ma fluida mi verrebbe da dire cioè in realtà si legge io la leggo con grandissimo piacere secondo me la può leggere chiunque e lei usa la x e dice per esempio non nignos con o o nignas con a ma nign x s se io devo tradurla non la posso censurare dovrò trovare un modo di restituire questo aspetto perché diciamo perché sarebbe censura non dipende dalla mia io devo solo restituire quello che lei passa e quindi mi sono a lungo interrogata ci siamo a lungo interrogati nella comunità dei traduttori italiani per trovare un modo un modo che uno vorrebbe fosse più possibile collettivo e condiviso quindi non so se è meglio l'asterisco lo schwa alla x però sarebbe bello che trovassimo un modo comune per cui il lettore sa che è quella cosa lì il lettore italiano e non passa attraverso mille cose diverse diciamo è successo questo mi raccontavano di un caso di un editore anche importante che aveva su un altro fronte diciamo su un altro tipo di sensibilità una scrittrice credo diciamo britannica che in un romanzo aveva usato la cosiddetta n-word n-word diciamo è la parola nero con una g diciamo così l'aveva usata mettendo però non mi ricordo se un asterisco o una x al posto cioè l'aveva scritta in modo che non si capisse che si capisse che era quella parola ma con dei caratteri grafici particolari che la nascondevano era in bocca un personaggio razzista quindi lei in bocca un personaggio razzista ha voluto far capire che questo personaggio usava la n-word però non l'ha voluta usare l'ha solo suggerita per così dire la traduttrice italiana o il traduttore italiano quando ha visto questa parola ha detto vabbè ma il personaggio è razzista possiamo usare la parola e quindi è andato dritto con negro hanno dovuto ritirare il libro dal commercio l'editore perché l'autrice inglese ha detto no anch'io potevo usare la n-word in inglese non l'ho voluta usare perché devo deve sembrare al lettore italiano che io l'ho usata è un ragionamento che fila diciamo che la traduttrice ha tirato dritto o il traduttore che sia in maniera un pochino disinvolta se io avessi trovato un segno grafico particolare mi sarei sentita in dovere di rimettere un segno grafico particolare se una cosa è suggerita e non di non sono io che parlo è la scrittrice e quindi diciamo io sono responsabile delle parole di altri devo averne cura quello è il suo messaggio è chiaro che come traduttrice mi trovo a contatto con sensibilità diverse se io a volte potrei non coglierle la mia paura non è quella se la colgo io cerco in tutti i modi di restituirla per esempio quando vent'anni fa ventun anni fa quando ho tradotto 2666 ci siamo interrogati con la mia revisora che si chiama Francesca Erba da Delphi ed è bravissima bravissima ci tengo a dirlo sull'opportunità di usare femminicidio perché in Italia non esisteva in spagnolo si usava già io ho fatto le mie ricerche e ho detto è un tipo particolare di omicidio non possiamo appiattirlo dimostra una sensibilità in Bolagno una consapevolezza fuori del comune perché da noi ancora non se ne parlava abbiamo lasciato femminicidio e questo oggi meno male perché oggi aver usato un sinonimo per femminicidio sarebbe stato come dire da buttare via la traduzione ecco la paura è sempre perché poi noi traduciamo per i lettori quindi a volte la paura è non riuscire a comunicare le cose e non riuscire a portarle la paura è quella di normalizzare la paura è quella di appiattire la paura a volte è quella anche di essere eurocentrici cioè quando per esempio vi parlavo dell'andruetto l'andruetto in un suo romanzo ha una bambina che raccoglie in giardino un rametto di perlilla perlilla anzi perlilla in spagnolo è quello che in Italia si chiama sinforicarpo sfido chiunque in un libro per bambini ammettere che una bambina sono uscita in giardino e ho colto un rametto di sinforicarpo è un po' e non c'è un nome volgare in italiano allora ho sentito l'andruetto e le ho detto che vuoi fare questo è un culturema è una parola cultura specifica come facciamo e lei mi ha detto ma se vuoi metti una pianta comune in Italia un po' carina e io ci ho pensato e ripensato e poi ho detto no mettiamo perlilla perlilla suona anche perlilla lilla è comunque una pianta perché perché alla fine il bambino secondo me capiva prendeva il rametto insomma il contesto l'aiutava e questo aiuta da un lato a non normalizzare cioè il mondo latinoamericano la cultura il paesaggio latinoamericano è rispettato quindi non diventa un mondo europeo un po' un po' banale no? e il bambino capisce che il mondo è grande e vario non pensa che il mondo assomiglia tutto a casa sua quindi è un non solo rispetto per l'altro ma anche arricchimento per noi è chiaro che a volte questo è difficile perché il bambino può non capire quella parola però ecco andare in automatico e trasformare per esempio tutti i donuts in ciambelle voi non so le ciambelle immagino che voi le troviate solo nei libri non so se qualcuno di voi ha dimestichezza con ciambelle a casa oggi faccio le ciambelle mangio le ciambelle sono i donuts no? ecco questo passaggio e sarebbe bello che così anche questi passaggi di cultura i lettori li seguissero perché sono come dire si lavora per voi noi si lavora per voi ecco senti no questa cosa qua del razzista che non usa la parola negro mi ha lasciato un po' perplesso però non è un problema del traduttore è un problema dell'autore evidentemente era una parola per la scrittrice impronunciabile era qualcosa che solo vederla la offendeva talmente a fondo che ha preferito appunto suggerirla perché si capiva che era quella ma non non esplicitarla è una sua sensibilità ma perché negargliela e invece per quanto riguarda prima citavi questa persona di Adelphi che è l'ombra dell'ombra possiamo dire però a proposito di ombre ultimamente da qualche anno questa parte dei piccoli editori prima e adesso anche nei naudi nella quarta di copertina o in terza di copertina prende conto dell'esistenza dell'ombra è un piccolo passo in avanti un passo avanti sì sì credo abbia cominciato Minimum Fax Sussur ammetterlo anche perché in questo mondo così ahimè come dire dove tutti sono imprenditori di se stessi e diciamo anche per un revisore avere avere scritto il suo nome attestare un curriculum è importante diciamo poi anche lì onori e oneri cioè onori e oneri se il libro poi non esce come deve essere rivisto io credo molto nella responsabilità collettiva di un libro un libro non sarà il cinema però ecco e non vorrei forse non lo dovrei dire accanto a uno scrittore però a volte si perde un po' di vista cioè come dire c'è una ormai c'è una tale mi verrebbe da dire una spettacolarizzazione della figura dello scrittore che il resto sembra quasi che non ci sia invece c'è anche un sostegno che è minimo perché nessuno riesce a rendere bello un libro brutto nessuno riesce a trasformare un libro mediocre in un capolavoro tutti gli onori vanno allo scrittore ma poi c'è un artigianato nell'oggetto libro come dire io posso essere io faccio un capolavoro se poi me lo pubblicano tradotto male o comunque editato male su un libro che si sfascia dopo due giorni con una copertina brutta e rimane in libreria poco o nulla il libraio non ha tempo di leggerlo e non lo sa consigliare e il recensore lo recensisce senza leggerlo in malamente ecco è un mondo così che invece andrebbe valorizzato perché va a sostegno della buona letteratura va a sostegno di tutti poi diciamo non vorrebbe non vorrei che diventasse questo credo che come dire che sia un mondo anche per certi aspetti privilegiato cioè noi lavoriamo con delle cose belle un lavoro che è sempre diverso che non annoia ci vorrebbe una è un mondo del lavoro in Italia è complicato non solo quello dell'editoria diciamo guardiamoci attorno mi piacerà per raccontare un'altra cosa se posso proporla senza la domanda per darvi un'idea di cosa vuol dire anche l'impatto della traduzione sulla ricezione di un testo a me è capitata la fortuna di tradurre un libro che avevo letto di nascosto sotto il banco in quarta un quinta ginnasio durante le lezioni di un professore di filosofia che era devo dire poveretto molto noioso molto ripetitivo ed è cent'anni di solitudine io mai avrei pensato che quel libro lì un giorno mi sarebbe arrivato fra le mani cioè è stato proprio come sono allineati mille pianeti mille stelle è stato per me una gioia immensa poterlo ritradurre quel libro è stato tradotto in un'epoca particolare perché a volte molti sono affezionati e mi dicono ma c'era proprio bisogno cent'anni di solitudine di ritradurlo è stato tradotto in un'epoca in cui l'Europa guardava l'America Latina come a un posto esotico a un posto dove come dire a un posto pieno di magia e quindi il realismo magico di quel libro meraviglioso nelle traduzioni europee non solo italiane era diventato molto magico molto molto magico e pochissimo realistico e andava riportato a come era stato concepito come era stato scritto da Garzia Marquez perché che cosa aveva fatto questo traduttore bravissimo che era Enrico Cicogna traduttore io non l'ho mai conosciuto dicono che avesse due baffi da ussaro aveva un italiano meraviglioso Cicogna per rendere più magico il libro prendeva le parole spagnole e non le traduceva le italianizzava allora i bambini in cent'anni di solitudine lo potete vedere se ce l'avete a casa la vecchia edizione lo trovate i bambini giocano in piazza con i cromi il lettore italiano diceva ma che saranno i cromi che posto strano che posto magico lo cromos sono le figurine oppure la ragazza la donna aveva una pelle duracinata e uno dice ma che cosa vuol dire la pelle duracinata solo in America Latina le donne hanno una pelle duracinata duracinata viene da adurasnada durasno è la pesca adurasnada è una pelle di pesca quindi per García Márquez questa donna aveva una pelle di pesca o vellutata come volete ma nel libro è duracinata vi potrei fare un'infinità di esempi ce ne sono non so anche alcuni per esempio non so guardò fuori dalla troniera cosa sarà la troniera la tronera sono le feritoie semplicemente si chiamano così in spagnolo il salone aveva un pavimento scaccheggiato scaccheggiato traduce ajedresado ajedres sono gli scacchi ajedresado è un pavimento a scacchi in spagnolo è un pavimento scaccheggiato moltiplicatelo per tutte le parole di un romanzo e avrete già un discreto cambiamento in quel romanzo in più prendete parole semplici e slittatele verso l'alto per esempio duda vuol dire dubbio traduzione esitanza oppure puta non lo traduco ma ho fiducia che ci arriverete scanfarda allora pensate che tipo di operazione è stata il libro ha avuto un successo straordinario in Italia ha decuplicato le vendite dei libri di autori latinoamericani nel giro di pochissimi anni quindi che cosa ha fatto Cicogna d'accordo anche con Riva e con con Feltrinelli insomma anzi loro sono intervenuti tantissimo quindi resta il dubbio se tutti questi slittamenti siano stati fatti da Cicogna o ci abbiamo messo lo zampino anche Riva e l'altro per paura che il lettore italiano non apprezzasse un romanzo che arrivava da un mondo lontanissimo di uno scrittore che era un esordiente nessuno cioè non era un esordiente da noi in America Latina non così tanto però diciamo anche in America Latina non era granché conosciuto per cercare di attirare l'attenzione di andare incontro al gusto del lettore che laggiù voleva vedere un mondo esotico magico con come dire un po' scapista si va laggiù ci sono i rivoluzionari che fanno le guerre ha completamente riscritto il libro e il libro è piaciuto ecco perché bisogna ritradurre perché la traduzione deve essere fatta con cura perché ci possono essere operazioni culturali piuttosto discutibili c'è anche la questione del linguaggio che invecchia sto pensando per esempio alla ritraduzione del giovane Holden allora diciamo un linguaggio che invecchia il giovane Holden povero libro è un libro scritto con linguaggio giovanile cioè povera traduzione Adriana Motta linguaggio giovanile invecchia velocissimo invecchia velocissimo perché il linguaggio giovanile il gergo giovanile serve a dire io sono giovane e te ormai sei vecchio quindi il sedicenne lo usa per andare contro il 26enne il 26enne contro il 36enne tant'è vero che non si fanno dizionari di gerghi giovanili perché non fanno in tempo a farli che già sono passati di moda è proprio il gruppo che parla quella lingua lì e a parlare quella lingua lì deve servire a escludere chi non è del gruppo chi è un po' più vecchio quindi un romanzo scritto col gergo giovanile e poi tradotto invecchia veramente velocissimo la motta aveva fatto un gran lavoro perché ha resistito per molto tempo quando è stato ritradotto è stata fatta un'operazione mi si è ammessa la traduzione è molto piaciuta quindi non proprio è chiaro che il gergo giovanile poi c'è anche un'altra difficoltà non so se voi ci avete mai ragionato ma in Italia ci sono tanti italiani ma sostanzialmente ce ne sono due più un terzo un po' passato di moda il milanese televisioni di Berlusconi che lo veicolano casse editrici giornali due Roma romano televisioni di stato forse un po' la burocrazia ma poco tre il toscano che aveva come dire che era la lingua letteraria che è sempre più in ombra no io a volte leggendo le traduzioni anche di Cicogna Cicogna per esempio dice che Ursula quindi la matriarca sta sull'uscio ora uscio non lo uso più nemmeno io che sono toscanissima io sono toscana la famiglia è arrivata a Lucca nel Cinquecento da Carmignano che è sopra Firenze Artimino quindi diciamo almeno da mille anni forse di più forse sono super toscana Ursula nessuno lo dice più su un'ava toscana a me poi parla di ramerino il ramerino è quello che mia nonna il rosmarino metteva nella torta di castagne oggi nessuno dice più ramerino quindi ho detto deve essere toscano anche Cicogna invece era un nobile uomo milanese ma toscaneggiava perché la lingua toscana era la lingua elegante oggi non si fa più oggi si milaneseggia diciamo invece di di sciacquare i parni in arno si sciacquano nel po passa anche da Torino ma Torino secondo me è molto più contenuta del se posso dirlo ora poi questa cosa andrà online verrò sicuramente minacciata dalle redazioni milanesi ecco questi sono vari focus questo vuol dire che per esempio il gergo giovanile se io devo dire che qualcosa è figo personaggio di città del Messico io non riesco a fargli dire figo con la G perché per me è milanese ma non riesco neanche a fargli dire fico perché è romano e non so cosa fargli dire perché l'italiano non ha un unico centro in Spagna c'è Madrid in Francia c'è Parigi per loro è molto più facile tradurre il gergo giovanile o il gergo anche in generale noi siamo sempre così quindi a volte devi fare delle capriole linguistiche perché è straniante mettere in bocca un personaggio di lì una lingua cioè come fai a far parlare un Cilango un tizio di città del Messico come un milanese o come un romano è è di città del Messico